Dio perché padre ha formulato un progetto d'amore per gli uomini, per i suoi figli, per renderli partecipi della sua vita trinitaria. Però possono sembrare parole gettate così, ma che senso enorme che contiene questa espressione. Il progetto di Dio è perché ciascun di noi potesse vivere la vita di Dio, la vita trinitaria nel padre, nel figlio e nello spirito santo. Con il nostro innesto nel figlio siamo predestinati ad essere suoi figli adottivi. Noi col battesimo siamo diventati figli di Dio, figli adottivi. Per noi sappiamo che il figlio adottivo ha diritto e dovere come figlio naturale. Per cui se un giorno quando sarà io vado in paradiso e busso a paradiso e San Pietro mi dice tu non entri in paradiso, io dirò no scusami, ho diritto alla proprietà che Dio mi ha lasciato perché io sono figlio di Dio e ho diritto alla sua proprietà. La proprietà di Dio è il paradiso e io entro. Vedete, fratelli, il carico delle parole è immenso, ma non è la parola che è immensa, è l'opera di Dio creatrice che ha compiuto questo progetto meraviglioso su ciascuni di noi. Nel battesimo siamo stati inseriti in Cristo sacerdote, re e profeti. Quanto è bella questa spiegazione del nostro battesimo, siamo sacerdoti per fare che cosa? Per consagrare la vita che viviamo, per rendere tutto sacro, per vivere la chiesa domestica dove il papà dice Sant'Agostino e il vescovo e i componenti sono i sacerdoti, il re, cioè non la potenza di dominare gli altri, ma la potenza di dominare noi stessi, le nostre passioni. E poi profeti, annunziatori della santità di Dio e quindi come, con quale discorso, con quali argomenti prepararci, niente affatto con la testimonianza della nostra vita. Tutto questo non per asservire l'universo e l'uomo a proprio vantaggio, ma perché Dio vuole che l'uomo faccia la vita divina con Lui. Gesù, modello da imitare. Gesù Cristo è il vero modello da imitare. Egli, pur rimanendo Dio, è entrato nella condizione terrena, si è umiliato, ha pensato con la mente umana, ha lavorato con le mani da uomo, assumendo il suo comportamento, assumendo quel comportamento del servo. Noi siamo i figli nel figlio che si è immolato, si è donato per innalzarci fino a sé. L'uomo partecipa della vita del figlio che ha lavorato incessantemente, ha girato la Palestina, ha affrontato le varie situazioni, ha affrontato la discussione con il dottore della legge e non ha avuto paura di affermare le sue idee, quello che erano scaturite dal cuore del Padre. E in questo campo esprime il concetto, Gesù, della provvidenza. Che cos'è la provvidenza? Non è altro che la manifestazione dell'amore di Dio. E anche qui questa provvidenza si realizza solo se noi apriamo le mani per accettarla. Il problema qual è? Che noi vogliamo accettare i doni di Dio a condizione che poi li possiamo gestire a comodo nostro. Ed è qui che casca l'assino. E allora i doni possono diventare noia, un peso per il nostro cammino spirituale. Dio crea e ama tutte le cose. Viene spontanea anche la domanda, ma quando ci sono le guerre, quando c'è la fame, come stabilire che Dio è amore, Dio è bontà? Perché è Dio che fa le guerre? Ci mancherebbe altro che Dio fosse un guerrafrontaio. Le guerre li fa il popolo. La guerra la fa la persona che dentro di sé non ha il concetto di Dio amore, ma ha il concetto dell'odio, dell'invidia, della gelosia, del sopruso, della sconvitta, del dominare sugli altri. Finquanto nel cuore dell'uomo ci sono questi concetti, Dio non può intervenire perché deve rispettare la libertà che ha donato all'uomo. Può sembrare un caso estremo, ma è la necessità. Dio deve rispettare l'uomo. Lo ha arricchito di doni e li deve rispettare. E l'uomo purtroppo se ne abusa di questa libertà che Dio gli ha concesse. Ringraziamo Dio per i tanti doni che ci ha dato, ma diciamo pure grazie, ma dacci la forza di superare il nostro egoismo e il nostro orgoglio.